buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi volevo fare un video un po speciale perché volevo ringraziarvi perché sono arrivata a 300 iscritti e per me comunque importante questo traguardo e niente oggi voglio fare un video un po diverso un video un po divertente per questo periodo brutto che stiamo trascorrendo che poi diciamo è un video divertente ma più o meno racconta un po la verità di come passo le giornate in casa spero che questo video vi piaccia in questo video coinvolgerò alcune ragazze e spero che loro faccia piacere vi mando un bacio e godetevi il video ciao mamma sì sì tutto bene no no sto in camera mia sì sì no non sto facendo niente eccezionale sto qui e ora mi metto un pochettino su youtube per vedere le ragazze hanno pubblicato dei video no non sono triste non ti preoccupare mamma no non penso che per pasqua riusciremo a scendere siamo ancora chiusi dentro sì no no adesso è orario che le mie amiche mettono la musica sì sì c'è una musica maura la musica ci dà il buongiorno sì sì mi manca anche tua mamma va bene ciao ciao alla mia mamma allora vediamo un pochettino maura ha messo una canzone per il bambino vediamo che canzone ha messo per la mia mamma maura penso che era questo il momento di mettere questa canzone maura no 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 devo essere triste perché maura maura mette sempre canzoni allegre canzoni che non ci fanno piangere vabbè lasciamo perdere con maura vedo che giovi giovi sicuramente avrà messo una canzone più migliore giovi perché io non glielo ho detto a mia mamma per non farla preoccupare ma io comunque sono caduta dalle scale mi sono fatta mare il piede e in più ho litigato anche il mio marito prima di uscire abbiamo avuto un pochettino una discussione quindi sicuramente giovi mi chiederà un pochettino più morale su sicuramente anche tu giovi ma oggi ce l'avete tutti con me giovi e pure tu di solito a volte metti canzoni allegre ma oggi mi siete messi tutte quante contro di me adesso chiamo mio marito mi ha attaccato il telefono in faccia vabbè forse è meglio andare da Maria perché Maria può darsi che forse mette qualche canzone un po' diciamo una via di mezzo ma perché vi ripeto mi sono fatta male pure la gamba non posso nemmeno camminare vabbè andiamo a vedere Maria cosa ha messo eccomi qua ragazzi mi sono ripresa ho visto che Maria ha pubblicato pure una canzone siccome vi ripeto sono caduta mi sono fatta male oggi non ho potuto fare nemmeno un'attività fisica e lo sport che di solito faccio in casa mi ha preso non ho potuto fare niente quindi vediamo un pochettino Maria che cosa ha messo grazie a tutti 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 grazie a tutti